Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menz, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo tornati qui con un nuovo episodio della carriera natore con l'Inter. Grazie ragazzi, grazie perché leggendo i vostri commenti, leggendo le vostre critiche costruttive, sono riuscito a cambiare qualcosina nel sistema imprevisti. Infatti questo è un episodio molto molto importante e vi invito nuovamente, una volta che vi farò vedere le novità, a farmi sapere la vostra sotto nei commenti. Perché sì, io i commenti li leggo, è difficile solamente rispondere a tutti quanti, ma le critiche costruttive sono sempre ben accette. È così che si cresce e ve l'avevo detto nel primo episodio, questa è una carriera allenatore in evoluzione, solo grazie a voi può diventare quasi perfetta. Spero di esserci riuscito con queste piccole modifiche, adesso ne andremo a parlare. Prima però ovviamente sponsor del canale, sotto nella descrizione trovate il link per Sei Calcio, sito sul quale ho acquistato questa felpa, con la quale registrerò il video oggi. Spettacolare! Oltre a questo ovviamente anche la maglietta, per esempio, che ho indossato fino adesso in questi episodi. Se volete fare degli acquisti anche con i vostri amici, con il codice sconto menzo, avrete il 10% di sconto e inoltre adesso ci sono anche i prodotti gratuiti. Non inserite i prodotti che volete gratuitamente all'interno del carrello, perché vi basterà copiare e incollare il nome del prodotto nella sezione osservazioni. Per tutte le informazioni però leggete bene la descrizione, mi raccomando. Qual era effettivamente il problema che in molti di voi hanno constatato, è che anche io ho constatato durante questi primi episodi, che semplicemente io avevo poco controllo della rosa e a volte i titolari, quelli della squadra proprio titolare, rischiavano veramente di vedere poco il campo. E così non è particolarmente giusto e rispettoso nei loro confronti. È vero che dobbiamo far crescere i giovani, ma dobbiamo valorizzare anche i nostri titolari. E quindi nel sistema imprevisti ho aumentato la possibilità di trovare spazi verdi e quindi di poter far giocare di più i titolari. La sezione rossa, quindi rivoluzione, mi dà sempre la possibilità di far giocare 8 undicesimi con la primavera. Quindi questo non è assolutamente variato. Però come potete vedere nella sezione centrocampo, grazie ad alcuni commenti di voi, ho deciso di inserire centrocampo barra esterni. Quindi dovesse uscire di nuovo questa voce, sarò io e avrò io il controllo di questa scelta, a dover scegliere se inserire gli esterni della primavera o il centrocampo della primavera all'interno della squadra. Così abbiamo più variabili. Però sono convinto che avendo un pochettino di più di spazi verdi, effettivamente la prima squadra avrà più spazio. Poi ricordatevi sempre che se dovesse uscire difesa, il resto della titolare sarà quello della prima squadra e la stessa cosa vale per l'attacco. Se dovesse uscire attacco, il resto della squadra sarà la titolare. Che altro c'è da dire? Per quanto riguarda la sfida contro le ultime tre in classifica, ho deciso di far giocare sette undicesimi della primavera. Quando giochiamo contro le ultime tre, andiamo a dare un giocatore da titolare in più alla rosa. E quindi è un po' meno punitivo di rivoluzione. Spero di essere stato chiaro, ragazzi. Chiudiamo gli imprevisti perché il Verona è esattamente diciottesimo e quindi è terz'ultimo in classifica. Fatemi sapere cosa ne pensate di queste novità per dare più importanza ai titolari e soprattutto per avere un pochettino più di scelta quando vado a fare la formazione. Secondo me così le cose possono migliorare parecchio. Per quanto riguarda invece il fare imprevisti contro il Real Madrid, contro Shakhtar nei Big Mets, ragazzi, divertiamoci per favore. Chi se ne frega se dovesse uscire attacco contro il Real Madrid. Va bene che è una carriera natore con l'Inter. Ma una volta che c'è qualcosa di nuovo, perché non riusciamo a divertirci in santa pace? Godiamocela. Anche se non vinciamo tutto la prima o la seconda stagione. Ma chi se ne frega una buona volta? Se volete vedere vincere tutto subito, vi scongiuro, andate a vedere coloro che fanno le carriere con tutti i top player subito. Perché io sono stanco di questa situazione. Io voglio potermi divertire insieme a voi. Aprite la mente, mi dite sempre che vi annoiate a giocare la carriera e ogni volta che vi porto qualcosa di nuovo c'è sempre qualcosa che non vi fa piacere la carriera. Supportatela. Ci divertiremo, l'abbiamo visto anche nello scorso episodio. È incredibile quello che stiamo creando. Forza ragazzi. Quel bastardo di Vidal è capocannoniere. Io l'ho venduto io e mo' è capocannoniere. Stiamo scherzando. Stiamo scherzando. Allora, cuffiette alle orecchie. Grazie comunque a tutti quelli che supportano. Grazie a tutti quelli che scrivono i commenti. Io vi leggo ragazzi e mi ricordo di voi. Non vi preoccupate. Andiamo a giocarci questa partita contro l'Allas Verona e come vi ho appena detto, sette undicesimi. E quindi abbiamo quattro giocatori della titolare che possono restare in campo. Il resto deve essere della primavera. Quindi io andrei a fare questa cosa qua. Il primo giocatore che faccio giocare dalla prima squadra è De Vrij. Il secondo è Gosens perché effettivamente ha giocato poco in questo inizio di stagione. Mi sentirei di far giocare anche Varella. Sono un po' in dubbio per quanto riguarda l'attacco. Mi piacerebbe far giocare Lazetich insieme a Farias. Però ragazzi penso che darò spazio a Scamacca. Signori, andiamo in campo con questa formazione. Guardate che bel mix. Secondo me può crescere ancora questa squadra. Sicuramente può crescere. Andiamo in campo sempre sul pezzo. Forza Inter. Inoltre De Vrij se la deve vedere con Lasagna che non è mai un cliente facile. Da valutare anche Rinaldi che ha trasformato... Eccola lì la valutazione di Rinaldi. Mannaggia la miseria. Ha trasformato la difensore centrale. Ha già fatto una cacata epocale. Bravo, Gosens. Farias sempre sul pezzo. Vignato che anche lui si sta facendo notare parecchio. Scamacca. Farias attenzione perché può partire in campo aperto. Gunther non lo tiene. Farias, 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 Farias. Davanti al portiere. Alla prima occasione buona. L'intera in vantaggio con Facundo Farias. 1-0 per i Nerazzurri. È incredibile questo giocatore. È incredibile questo giocatore. Veramente può fare tutto quello che vuole. Era importantissimo sbloccarla subito ragazzi. E attenzione a Lasovic. Se ne va a Rinaldi. Al centro a Goumet. Grande guardia. Grandissima guardia. Farias. Consensavo. Attenzione. Può cavalcare sulla fascia. Passa dal centro dove c'è Barella. Al centro per Vignato. Attenzione. Vignato. Vignato. Sì per Scamacca. È bellissima. 2-0 Inter. 2-0 Inter. Al ventesimo. Effettivamente il fatto che Scamacca non abbia tatuaggi. E neanche il face scan. Non mi piance. Almeno i tatuaggi mettetegli. Mannaggia la miseria. Bravissimo Vignato. Che avrebbe potuto tirare col destro. Si è accorto che forse. Effettivamente. Era un po' troppo defilato. E ha deciso di servire un grande assist a Scamacca. Attenzione ragazzi. Perché la copia Scamacca Farias. Sta facendo molto bene. Bravo Gossens. Ma che palla mi ha recuperato. Attenzione ragazzi. Scamacca. Farias. Se l'hai visto. Mamma mia. Non era proprio per lui. Attenzione Gossens. Va bene lo stesso. L'importante è tenere il possesso del pallone. Gossens. Vignato. Trova un varco spettacolare per Barella. Consensau. Palla deviata. Solo una squadra in campo signori. Sono quelli vestiti di nero e azzurro. Barella al centro. Robin Gossens. L'arciere. Robin Hood. Proprio lui. È 3-0 Inter. Monologo. Della squadra di casa. Grande calcio dall'angolo di Barella. Non esce il portiere. Grande incornata di Gossens. Bravo Zabayone mio. Cos'è fischiato? Ma proprio gliela vuoi far riaprire? Zabayone. Sì che l'hai visto? È bellissima. Consensau. È fuori gioco però. Ma che palla gli aveva messo? Che palla gli aveva messo boys? Secondo me l'errore che fate. E quando dico fate. Intendo quelli che non riescono a apprezzare questa serie. Quando tipo esce Rivoluzione. Io la vedo come una cosa divertente. Non come oh che palla. Gioca con Rivoluzione contro il Real Madrid. Cioè a me non me ne frega niente. Non me ne frega niente. Sono quasi contento che esca Rivoluzione. Poi sì è ovvio. Andarci con i titolari è un altro paio di maniche. Però Vabbè. Vabbè. Basta basta. Chiudiamola qua. Concentrati. Oh Simone. Bravo un gatto. Ragazzi secondo me Zabarni è forte. Ve lo dico così ragazzi. Ve lo dico così. Al volo. Secondo me è forte anche Vignato. No ragazzi. Che gol abbiamo appena fatto. Che gol abbiamo appena fatto boys. Dove era Lazetich in tutto questo? Ancora Facundo Farias. Su assist di Consensao. Eccolo Lazetich. Che va a esultare. Che palla di Vignato. Che palla di Vignato. Bravissimo Consensao di prima. Bravissimo Facundo Farias. A tirare di prima intenzione. Adesso Vignato esce tra gli applausi. Dentro. Elmas. Farias. Elmas. Al centro. Lazetich. Para il portiere. Pandur. Vicinissimi al 5-0. La Elas Verona non ha organizzazione ragazzi. Ho capito perché è questa condizione di classifica. Bravo Gumenzo. Mamma mia che intervento. Proprio Labrozovic. Finisce qui. Tre punti. Presi in casa. A San Siro. Con una grande prestazione da parte di tutti quanti. Abbiamo messo subito sotto l'Elas Verona. Abbiamo fatto capire chi comanda. E devo dire ragazzi che i voti sono lo specchio di questa partita. Veramente. Veramente una grande prestazione. Delle nostre punti del nostro centrocampo. Della nostra difesa. Molto. Molto. Bene. Daie. Daie. Stiamo riprendendo quota. Adesso non so sinceramente com'è la nostra situazione in classifica. Andiamo a vedere subito. Poco spazio per Correa. Ok. Eh lo so. Purtroppo. È così. Però potremmo riscattarlo. Potremmo riscattarlo. Per il momento siamo sesti. Ricontattarlo. Ma costa. 33 milioni ragazzi. Sono una cifra esorbitante. Sì. È vero che ho tanto budget stipendi. Tantissimo budget stipendi. Potremmo pure provare a ricomprarlo. Così non abbiamo stela mentele. 27 anni. Secondo me Correa può sempre far comodo. 49. Va bene che i soldi li ho. Però. Mi sembra davvero troppo. Tanta distanza tra domanda e offerta. Tantissima distanza tra domanda e offerta. A questo punto vado ad aprire il sito di generatore numeri. Perché infatti le cose cambiano. Non è più da 1 a 22. Ma bensì a 1 e 25. Giusto? Sì. Fammi vedere. Per sicurezza. Sì. Ho contato fino a 25. La mia prof di matematica. Sarà assolutamente orgogliosi di me. Andiamo a generare. Sette. Nulla. Nulla. Non ho detto niente. Tranquilli. Bene. Andiamo a giocare questa partita di Champions. In tranquillità. Anche perché questa è la nostra situazione. Contro Shakhtar bisognerebbe fare. Punti. Bisognerebbe fare. Punti. Assolutamente Doomfries. Assolutamente parella. Sinceramente. Salanoglu. Ghostsensei è abbastanza stanco. Quindi andrei con Di Marco. In attacco. Ehm. In attacco. Scamacca è super in forma. Però vorrei far giocare Zeko. E mi potrei portare dietro anche Elmas. Così. Sì. Sì 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 sì. Ci sto. Ho un ricambio per tutto. Giusto uno per la difesa. Sì. Perfetto ragazzi. Ci siamo allora dai. Andiamo così. Sempre sul pezzo. Forza Inter. Per questo match di Champions League. Ah però ragazzi. Se giochiamo così. È dura eh. È dura. È dura. È dura. No. Mamma Andanovic. Sto sbagliando tantissimo. Sto sbagliando. Tantissimo. Ora lo Samir. Te alzi Bremer. Dammi sta palla anche te. Ancora Andanovic. Assedio. Da parte dello Shakhtar. Non riusciamo ad uscirne. Ancora un bel calcio d'angolo. Ancora bastoni. Non riesco a trovare un appoggio. E non riusciamo a salire. Eh ragazzi. Ancora Andanovic. Un'altra grande parata. Con le più personalità. Ti Samir. Olè. Bravo. Con calma. Forza. Rimettiamoci a posto. E giochiamo come sappiamo fare. Pedrinho. Ha passato. Mamma mia Andanovic. Ma che è sta storia che para? Scusate. Di Marco sta faticando tantissimo. Contro Pedrinho. Ammonito. Finito del primo tempo. Non sono soddisfatto. Stiamo ancora così dieci minuti dieci. Poi dentro coi cambi. Ecco. Finalmente riusciamo a far correre Duofres. Può metterla in mezzo. Ismaili. Ci mette il gambone. Prozovic. Proprio dove c'è. D'Ingeco. Moraes. Anticipa. Il bosniaco. Varela. Ancora Duofres. Passa dal centro. Invece c'è la Noglu. Occasione Inter. Nitida. Per acancione la Noglu. Che la colpisce d'esterno. E il pallone esce. Che brutto movimento che ho fatto. Bravo. Basto. Mamma mia. Ok. Finalmente riusciamo a far andare anche Di Marco. Al centro Martinez. Arriva anche Duofres. Servito l'olandese. Male. Poi c'è ancora Dzeko. La tiene in gioco. Dzeko che la tiene in gioco. Mamma mia Di Marco. Cioè stai giocando con una sufficienza imbarazzante. È veramente piuttosto. Biuk. Cambio anche Dzeko. Dentro Correa. Visto che dice che non gioca. Vare. Autoro Martinez per Dzeko. Edin. Dzeko. 1-0 Inter. La sblocca lui all'improvviso. La sblocca lui all'improvviso. Con una verticalizzazione importante di Barella. Bellissima la palla di Lautoro Martinez. Ottimo. Il mancino. Di Edin Dzeko. Ci porta in vantaggio. Anche lo Shakhtar che nonostante il gol preso non si perde d'animo. Non è facile. Dover passare questa. Linea di centro campo con Martinez che fa un numero incredibile. Palla per Correa. 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 Davanti a Piatov. Una finta. Correa. Piatov. Ho perso una brutta palla con Barella. Qui l'ho dovuto piantare. Skriniar. Bravissimo. Bravissimo Skriniar. Non si prende neanche il giallo. La bella stecchina ogni tanto per far sentire la presenza. Occhio a te te. Andanovic che oggi ha fatto veramente una grande partita. Siamo nel recupero e la stiamo sfangando. Un'altra stecca di Skriniar. Oddio le fuori gioco si gode. Ha molito Skriniar. Va bene. Bravissimi ragazzi. Sono altri tre punti. Sono altri tre punti. Abbiamo sofferto tanto da squadra. Grazie a un guizzo di Dzeko siamo riusciti a sbloccarla. 10 per Andanovic. Meritavamo qualcosina di meno. Ma va bene così. Può capitare. Può capitare di sfangarla ogni tanto. Ok. Abbiamo la prende contro la Sampdoria. Però sono arrivati un po' di resoconti. Innanzitutto questa è l'offerta per Correa. Che andiamo a trattare. Ragazzi non me la sento di spendere 49 milioni per Correa. Sinceramente. Posso inserire una piccola clausola della rivendita. Ma non deve essere troppo eccessiva. Ah sto cacchio dello tirchio. È tosta trattare con lui. È tosta. Vediamo 33,7. Niente. Niente. Ci riproveremo nel caso. Sono arrivati i resoconti per un paio di difensori centrali. Luqueba, Vitic. Ragazzi Luqueba. Veramente, veramente tanta roba. Scusate. 18 anni. Allora. Avevo messo a seguire... Avevo messo a seguire degli esterni. Sono arrivati i resoconti. Di veramente sicuramente quello un pochettino più... Più sviluppato. Pirola assolutamente no. Lo togliamo. Se non avevano i 65 è veramente poco. Allora. Ah stiamo aspettando anche Mubamidele. Che con Gpandwenbu o Mubamidele sarebbe una gran ficata. Luqueba tanta roba, signori. Castello... Castello Luqueba. Castello Luqueba. Ok. Abbiamo la partita contro la Samp che è sedicesima. Gekko mi chiede di giocare. Ci penserò. Sampdoria che è sedicesima. E quindi chiaramente lontana. Oddio, lontana mica tanto. Lì, lì. Dalla terza ultima posizione. Quindi imprevistiamola questa partita. Abbiamo ancora il 7 di prima. Quindi andiamo a generare un altro numerino. 18 nulla. Giusto? Giusto. Anche contro la Samp abbiamo libera scelta. E quindi andiamo a vedere un attimo le situazioni. Più che altro quelle di... Mi verrà in mente la parola? Di forma fisica, ecco. Gekko mi chiede di giocare. Non ha una grande forma, però. Io lo buttiamo lo stesso in campo. Mi porto dietro Scamacca. Così magari gli faccio fare un tempo a testa. Sì, mi sento di mettere Zabarni al posto di Bastoni quest'oggi. Il resto titolare. Facciamo prendere anche lucidità. Azzalanoglu. E direi che Gekko Martinez ci può stare. Andiamo in campo così, signori. Sempre sul pezzo. Forza Inter per quest'ultima partita di episodio. Vedete, così le cose sono un peletto più equilibrate. Perché in questo episodio, per esempio, abbiamo giocato con la primavera perché abbiamo incontrato una squadra che era tra le ultime tre. Per il resto ce la siamo gestita noi. Occhio perché partita forte. La Sampdoria. Ancora Andanovic. Ancora Andanovic. Sta calando, ma para. Palla però fuori dal controllo di Zanoglu. Colle, Skriniar. Quanto ha quotato il gol di Sensi o di Candreva. Pagliarella. Uh, palla fuori. Mi sembrava potesse entrare. Rischio. Zecco. Zanoglu, attenzione. Una finta. Se la mette sul mancino di Gossese e poi Zanoglu. Palla deviata. Non riusciamo a far andare al gol. Zala. Bella. Bellissima. Bari, dove sei? Brozovic. Pesca. Barella. Su calcio d'angolo. Solitamente Barella tra l'altro resta fuori dall'area. Qui invece tanta tanta roba. Tanta tanta roba. Che calcio d'angolo. La sblocchiamo. Era molto importante. Sempre importante sbloccarla. Soprattutto nei migliori momenti dei tuoi avversari. Guardate che calcio d'angolo. Spettacolare anche l'incornata di Nico. Guarda Barella. Che classe. Poi lancia Lautaro Martinez. Ma Beresinski non è così lento. Ma è spacciato. Perché Martinez gliela ruba. Martinez. C'è. Il 2-0 dell'Inter alla mezz'ora. Lautaro Martinez. Mamma che bello che è. Mamma che bello. Beresinski si fa fregare il pallone. Benissimo. Il pressing di Martírez. Che poi non sbaglia. Che poi non sbaglia. Ancora Andanovic. Si dispera. Chi era? Jovinco. Non riescono a fare gol al nostro portiere. Non possiamo lasciargli troppo spazio. Però ragazzi. Bravi in chiusura. Ecco la Sensi. Ancora Andanovic. Finisce qui il primo tempo. Siamo in vantaggio per 2-0. Siamo devastanti. Siamo devastanti. Martina sta un po' stanco. Barella. Bella palla per Consensão. Può correre. Ha spazio sulla destra. Passa da Dzeko. Che si appoggia a Salanoglu. Audero. Aveva parlato anche questa Andanovic. Allora sì. Facciamo dei cambi. Salanoglu è quello più stanco. Però vorrei cercare di alzaregli un po' la lucidità. Vorrei dar spazio a Satriano. Vorrei dar spazio a Satriano. Se lo merita. Iniziano a questa palla per Jovinco. Scriniar. Jovinco se ne va. Bravissimo Jovinco. Quagliarella. La riapre la Sampdoria. Facciamo entrare Elmas al posto di Salanoglu. Arrivano al gol i blu cerchiati. Con una grande azione. Bravissimo Jovinco. E bravissimo Quagliarella. Guardate da dove è passato sto pallone. Sotto le gambe di Zabarni. Adesso concentrati. Con sensato. Satriano. Ancora Dzeko. Come in Champions League. Impegnato ancora Udero. Barella. Azzone perché è bellissima la palla per Satriano. Satriano. Contro Colli. Satriano. È passato. Satriano. La chiude lui. La chiude Satriano. Primo squillo. A San Siro per lui. Siamo a San Siro. Siamo mica a San Siro. Siamo fuori casa. Dove cazzo siamo? Mi sembra di essere in casa noi. Le pillole. Menzo. Le pillole. Le pillole. Comunque. Primo squillo con la maglia dell'Inter. Facciamo così. Rewind. Primo squillo. Con la maglia dell'Inter. Per Martin Satriano. 3-1 Inter. Partita chiusa. Bravo. Scamacca. Per consensato. Che non ha molato un centimetro. Si sta un pochettino ripigliando. E finisce qui signori. Sono altri tre punti. Bottino totale. in questo episodio rivoluzionario. Se vogliamo chiamarlo così. Perché ci sono dei cambiamenti che possono comunque rendere le cose molto 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 divertenti. Ovviamente se avete consigli sotto nei commenti datemi lì. Migliori in campo Nicolo Barella. Molto bene anche Andanovic. Molto molto bene anche Andanovic ragazzi. Ottimo. Molto bene. Molto bene. Sono contento di questi risultati boys. Ci voleva proprio. Giaco è contento. Per il momento comunque direi che siamo tutti abbastanza contenti. Finisce qui. Fatemi sapere ciò che pensate degli imprevisti. Di quello che vi ho detto. Mi raccomando. Nel caso gli imprevisti possono ancora variare. Mi raccomando signori. Noi ci vediamo al prossimo video. Lasciate un viaggio, un commento, un consiglio. Alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.